Scorrevo le notizie e leggo Samsung invia il primo selfie nello spazio Come non essere incuriosito? Impossibile no? E quindi mi sono andato ad informare meglio visto che per i 50 anni di Samsung è possibile inviare veramente un selfie nello spazio Quindi oggi voglio provarci, ci proverò insieme a te Naturalmente lo potrai fare anche tu È possibile farlo fino al 31 ottobre Hanno inviato attraverso un pallone aerostatico un Samsung Galaxy S10 Plus 5G nella stratosfera A quale verranno trasmessi questi selfie per fare questa foto spaziale Spaziale è la parola giusta Verrà costruita l'immagine con lo sfondo reale dello spazio con la nostra immagine con il nostro selfie che abbiamo inviato E ci verrà rinviata Andiamo a fare insieme dal PC Naturalmente questo che sto facendo io lo puoi fare anche tu Hai tempo fino al 31 ottobre Ok eccoci qui, il programma si chiama Space Selfie Questo qui è il sito, ve lo metterò come sempre in descrizione Ok, possiamo andare giù e vedere un po' le notizie della pagina Qui c'è un video dimostrativo, se volete potete anche vederlo Se andate ancora giù con la rotellina del mouse Potete vedere i dettagli della missione Quindi andando qui su Esplora abbiamo la possibilità di leggere tutto quanto il programma spaziale Qui abbiamo la possibilità di caricare subito il nostro selfie Quindi ci clicchiamo Dobbiamo riempire questo piccolo modulo Quindi dobbiamo mettere il nostro nome e cognome La nostra mail E qui dobbiamo confermare alcuni disclaimer Confermo di aver letto Confermo di aver più di 18 anni Questo qui è facoltativo, facoltativo e facoltativo Quindi li lasciamo vuoti Andiamo su Non sono un robot Andiamo su Invia Perfetto, a questo punto possiamo andare a caricare la nostra foto Cliccando qui su Usa la fotocamera Vi aprirà la fotocamera del vostro dispositivo Quindi se state utilizzando il telefono, quella del vostro smartphone Altrimenti se state utilizzando un pc o magari un notebook Vi aprirà quella interna A questo punto andrò su Carica per caricarne direttamente uno Tanto ho diverse foto sul mio pc Andiamo su Avanti Qui dice Usa la tua creatività L'universo è la tua tela Ci inserirà come sfondo lo spazio Andiamo su Avanti Scegli un momento memorabile, eccetera, eccetera Andiamo su Avanti Ok, qui ci dice di caricare un formato in JPEG o PNG inferiore a 10 MB Qui dice che devono accedere alla fotocamera del nostro dispositivo Ok, in questo caso comunque no perché stiamo caricando una foto Ok, ne andiamo a prendere una Questa qui che ho messo sul desktop Ok Ok, qui me l'ha già posizionata Andiamo su Invia Qui possiamo aggiungere un filtro se vogliamo Ok, inserisco questo qui che mi sembra molto luminoso Perfetto A questo punto andiamo su Pronti al decollo Desidi rilanciare questo selfie? Sì Il selfie partirà Accensione dei razzi, eh, attenzione Il tuo selfie è pronto per lo spazio Conferma per il lancio Ok, qui ci chiede una conferma della mail Se è giusta andiamo su Invia le mail Perfetto, abbiamo completato Ci dice che entro 48 ore riceverai una mail con cui ti chiediamo di verificare che i tuoi dati siano corretti Quindi abbiamo praticamente aderito al programma Se voi andate su Termini e condizioni Avete la possibilità di leggere il premio I partecipanti avranno la possibilità di vincere un'immagine della foto caricata Su un dispositivo con il pianeta Terra sullo sfondo Saranno messi in palio in totale 65.000 premi Quindi diciamo che non sono pochi Abbiamo buona probabilità di ricevere il nostro selfie Anche per questo video è tutto Spero che ti sia piaciuto Se è così lascia un bel like Noi ci vediamo come sempre al prossimo video Noi ci vediamo come sempre al prossimo video